La violenza contro le donne si argina aiutando e sostenendo le vittime attraverso apposite strutture antiviolenza, ma anche lavorando su percorsi di responsabilizzazione per i maltrattanti. In provincia di Teramo, dove opera da anni il Centro Antiviolenza La Fenice, nascono quattro sportelli gestiti dall'Associazione L'Elefante Bianco che si rivolgono a tutti gli uomini che intendono cambiare e assumersi la responsabilità dei propri atti violenti. Un'idea che è partita da lei quando era consigliera provinciale e delegata alle pari opportunità. In un certo senso è partito da me, ma per il costante e continuo contatto che ho con l'Associazione L'Elefante Bianco perché L'Elefante Bianco comunque ha a che fare con il nostro comune, che è il comune di Silvi. Ha sempre collaborato, ha lavorato per affrontare le problematiche che hanno le famiglie sul territorio, che si riflettono sui figli, quindi le violenze sui ragazzi. E comunque è un servizio che L'Elefante Bianco ha prestato molto, quello sull'uomo maltrattante. Il problema della violenza sulle donne, come prima poco fa qualcuno ha detto, è un problema piuttosto dell'uomo che della donna, perché la donna è una vittima, diciamo. È un problema che va risolto a 360 gradi, con tutte le strutture e gli strumenti disponibili. L'Elefante Bianco, presente a Teramo, ad Atri, Silvi e Pineto, opera in rete con enti e istituzioni impegnate in prima linea nella lotta alla violenza di genere, con professionisti del sociale, con forze dell'ordine e avvocati. La Regione Abruzzo e la Fondazione Terca si hanno contribuito a finanziarne l'attività. Oggi sono già dieci gli uomini maltrattanti che hanno iniziato un percorso riabilitativo. In che cosa consiste l'intervento sugli uomini concretamente? Il percorso è organizzato in cinque incontri motivazionali, in cui si indaga la consapevolezza dell'uomo sui suoi agiti, che spesso è volentieri molto bassa ovviamente, e anche la volontà di cambiare, ok? E soprattutto il rischio per la vittima. Questo è fondamentale nei primi incontri. Una volta che si è lavorato con l'uomo, c'è la possibilità di entrare nei percorsi psicoeducativi, in cui si indagano temi, quali gli stereotipi, le emozioni, comunque un argomento sconosciuto agli uomini che agiscono violenza, e anche la generitorialità da quest'anno, anche perché abbiamo introdotto anche metodologie innovative. Chi informa questi uomini che voi esistete? Allora, diciamo che da noi arrivano tramite il tribunale, quindi autoria giudiziaria, su richiesta di molti avvocati, dall'Ulepe, e per assurdo molti arrivano spontaneamente, minacciati magari dalle proprie compagne, o come passaparola. Quindi c'è anche una buona fetta di uomini, diciamo, spontanei. Il servizio offerto dall'Associazione L'Elefante Bianco è gratuito e riservato.